Dopo un anno e mezzo e ben tre stagioni diverse, siamo finalmente entrati nel land di Pandora S&P, anche se forse ripensandoci sarebbe stato meglio se fossimo rimasti nell'overworld. Le nostre avventure hanno infatti causato uno squarcio nel tessuto spazio-temporale e ancora non sappiamo quali implicazioni ciò avrà. In ogni caso ci tengo a ricordarvi che Pandora viene giocata sul mio canale Twitch, dove mi potete trovare live tutti i giorni, tranne la domenica, e ora lasciate che vi mostri cosa è successo nelle due settimane che hanno preceduto il nostro viaggio nel land. Oggi voglio ignorare totalmente i miei doveri da presidente, perché voglio andare a caccia. Non di esseri viventi, non di mob, non di niente, voglio andare a caccia di blocchi. E lo faremo in due turni separati. Il primo saremo da soli e cercheremo di raccogliere un po' di blocchi nel nether e in caverna. Il secondo saremo conere insicuro. Dopodiché ho scritto sul gruppo Telegram di Pandora per dire Ciao ragazzi, qualcuno vuole venire in giro per il mondo con noi. Non ha risposto nessuno. Quindi credo che saremo solo io e sicuro. Come farò con i blocchi del land? Eh, quando andremo nel land, raga, andremo a fillare quelli slot. Altrimenti, come si dice dalle mie parti in provincia di Bolzano, stiamo fottuti nel culo. Mi servono tutte quante le robe crimson. Mi serve la soul soil e un'altra roba che mi sono dimenticato. Ui là! Come disse un grande saggio. Oh, scemo! Mattoni rossi del nether, quelli ce li ho, quelli ce li ho, tranquilli. Qua me ne servono tipo 5-6 di... Di crimson. E poi mi serve il nilium, quindi... Sganciami un nilium. Ce l'abbiamo fatta a farcela! Oh! Ma se tipo me la rubassi per... No, non posso, non posso, è da stronzi. Caverna a cercare... Allora, del diamante nella stone. Dello smeraldo nella deep slate. E del copper nella deep slate. Ah, e del coal nella deep slate. È loco! Non mi rovinare la clip nel video, brutto bastardo. E muori. Grazie. Copper! Terra! Benissimo. Aspetta. Yes! Eccolo qua, il carbone. Dai, statisticamente scavando dritto, prima o poi lo becco un diamante, no? Two thousand years later. Sono ancora qua che scavo dritto, cazzo. Oh, boys, ma lo sapete che il mio shop è stato aggiornato un mesetto fa? Quindi che dite di darci un'occhiata e spendere i vostri soldi guadagnati duramente per comprare la mia maglietta? Un po' bastardo, detto così. Sì, lo so. Prego qualcosa? Nah. Datemi i vostri soldi. Buono. Buono. Ogni tanto andai a vaccinare da dei colleghi, a meno. In che senso? No. Grazie, Jedem. Ma figa, ma sono a 46 d'altezza. Ma porca tro... Ma che cazzo? Ma perché? Cosa mi significa un diamante a livello 46? Nella stone. Ah, io sono sotto casa, fra... Oh, hai visto che progresso che abbiamo fatto, tra una cosa e l'altra? Sì, sì, sì. Sono appena entrato qui e stavo facendo vedere, eh. Ah, no? E hai fatto... Sì, sì, guarda. Ieri, in realtà, mi sono limitato a piazzare giù giusto i blocchi che avevamo nelle ceste. Guarda, ti seguo perché hai idea... Hai un'idea di dove andare, quindi. Ah, sì, sì. Sono stato per prendere i pesci palla quella volta lì. Ah, quindi poi c'era davvero. il bioma. Vediamo se ho ricevuto richieste. Vai. Ovviamente no. Bastardi. Presidente, presidente, presidente. Persistente. Posso... È necessitata la sua presenza nel mio ufficio insieme a... Eh, il presidente oggi non ha voglia di lavorare, è in ferie. No, il presidente oggi deve lavorare. Il signor presidente è in ferie oggi. No, il presidente oggi deve dare una risposta concreta e subito... Ok, quanto ci vuole? Ci vogliono 3,5 minuti. No, troppi. Eh, guardi, la licenza per rivendere automobili la devo rilasciare io, ma se vuole può già iniziare a costruire l'edificio? Eh, l'edificio è già fatto. C'è già. Abbiamo il signor Gianco come testimone, io le do il permesso di cominciare per ora. Poi, settimana prossima, passerò anzitutto a darle il permesso. Lei però, per poter rivendere, dovrà pagare una piccola tassa come hanno fatto tutti gli altri. Quindi perfetto. Permesso speciale. Una volta che ho dato 15, siamo a posto per sempre. Sì. E non devo darle nessuna tassa sulla vendita. Vabbè, dai, allora facciamo 25 se ci tiene. Visto che oggi il presidente non è all'interno del villaggio, oggi comanderò io. No, no, guardi. C'è sempre il vicepresidente. Vabbè, mi pare esagerato. Eh, no, funziona esattamente così. Quindi... Ma in assenza del vicepresidente sono io il colonnello del città. In assenza del vicepresidente non possiamo intromettere la legge marziale, quindi... Eh, la figura più d'alto spicco del villaggio sono io dopo il vicepresidente. No, facciamo che nomino Vic come vice-vice. Ma che cosa vuol dire? Arrivederci, buona serata. Arrivederci, arrivederci. Perché c'è una colonna di oro nella deepslate? Eh, c'è Vic che sta... Ah, è Vic che sta... C'è Vic in cima, l'ho vista adesso. Scusa. Pensavo che non reggesse lo stress della carica. No, Fra, no, 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 no. No, no, nel senso. Ma aspetta, in tutto ciò che blocchi stiamo andando a cercare... Ah, giustamente. Allora, giungla, mushroom e sabbia rossa. È vicino al villaggio, il corallo. Villaggio che io non vedo. Aspetta, c'è anche la giungla. Sì, eh, stavo guardando gli alberi lì. Sono il tronco di giungla, no? Sembra di... Sì, 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 sembrano alberi della giungla normalissimi. Sì, sì, confermo. Sì, perfetto. Senti, se volete scarico qua un attimo, vado a prendermi... Va bene, va bene. Mo Simo mi sente meno, non sento lui. Quindi ne approfitterò per dire a tutti quanti di fare la salva... Ecco qui, ti sento. No. Ci ho provato. E c'è anche la terracotta base. Ok, tira ne su un pochettino di quella che così non dobbiamo stare lì a impazzire. Quella lì, tra l'altro, la posso trovare tanto nella mesa, altrimenti, no? In realtà, basta cuocere la clay. Ah, è vero. Mi chiesto e cose le dimentico. Ma vuoi una bella notizia, Tier? Dai, dai, dimmi. Qua c'è della red sandstone. Alleluia, ma non la sabbia. Eh, vabbè, sì, è inutile. Ci servirà la sabbia comunque, quindi anche se le raccolgo adesso... Ma cazzata. Ma vaffanculo, io ho sclerato per avere il cazzo di melone. Qua è pieno. Uh, il composter. Perché sto rubando tutti i blocchi che vedo che possono servire. Che poi sono facili da craftare, ma sono pigro. Eh? Sabbia rossa? Sabbia. Sabbia. Ah, yes. Si gode. Va bene. Sai che per trovare un'isola dei funghi realisticamente dovremmo viaggiarcela per... Non so, diecimila volte. Dovremmo viaggiarcela per... Ehi, Nova, scusa se ti disturbo. Mi sai dire dove trovo dei funghi? Ho trovato un fungo gigante. Sottoterra. Ok. Allora. Uno. Due. Allora. Lo stem... Lo stem dei funghi è uguale per entrambi i colori, vero? Sì. Allora, sti cazzi. Eh, lo so. Però, purtroppo... Ok, funghi raccolti. Guarda, qua c'è un altro oceano, se vogliamo sperare di trovare... Monumento. Monumento. Ma anche un'isola di funghi, comunque. Sì. Vero. Ce l'hai tu la barca, mi sa. Ultimo c'è un'altra isola volante davanti a noi, comunque. E c'è un monumento! Davvero? C'è un cazzo di monumento, sì? Che quanto grosso. E questo non è un troll. È altissimo. Guarda com'è bislungo. Ma che trovi è? È così bislungo che è quasi bisunto. Perché cosa c'è? Vuoi entrare dalla cima e tentare di killare lo stronzo? Non lo so. Non lo so, se tu mi dici che ci sono le sale con quelle spugne più comode, facciamo quelle. Allora... Scarichiamo. Vai a fare in culo, maledetto. Mi ha dato già l'effetto. Ah, che bello. Cinque minuti di Binding Fatigue. Dov'è morire, Tyr. Fatto. Ucciso. E mi ha troppato una spugna. Qua ci sono tutti i materiali che servono. Sì, probabilmente li dobbiamo far fuori tutti se vogliamo raccogliere. Sì, ci conviene. Fatto, fatto. Eccoti. Qua. Bastardo! Ah, ma sei già partito? Tu sei pazzo, però. Sì, ma forse è il movimento del... A posto. Easy. Ah. No, bisogna aspettare due minuti e un qua. È 15, sei contento, Sivo? Sì, sei contentissimo. Ok, gli otto blocchi d'oro li caccio qui. Poi, ben detto, la Prismarine. Ce ne serve un po'. E i bricks anche. La Prismarine, ok, io sono fuori. Sivo, in tutto questo, ieri ne stavo parlando e sappi che... Ora voglio che questa cosa diventi realtà. Quando finirà Pandora S3? Sì. Ci spariamo una diversity. Oh mio Dio. Nostalgica. La diversity 3. Eh, sì. Ci stai? Ci sta, ci sta. Dai. E si torna. A casa. Cos'è? Cassita. Sivo, io ti ringrazio per la compagnia. È stato un piacere. Io... Io vado a... Morire sul divano. Dove mi trovo in questo momento? Mi trovo all'interno del municipio. Ti arma non era fatto così. Perché c'hai il tetto vicino alla testa? Eh, perché mi ero stufato dell'altra forma. Non mi stava piacendo più e quindi ho deciso di rifare tutto. Tier, ma sei un coglione? Lo so. Ci avete ragione. Ma ho deciso di rifare tutto. Con questa forma del tetto che mi è venuta abbastanza semi quasi decentemente. Però abbiamo un problema. Non ho idea di chi si sia incaricato della piazza. Suppongo lo abbia fatto Gianco. Dato che è la persona che gioca di più su sto server. Ma... Non ha centrato l'ingresso. Cioè, lo ha centrato rispetto alla caserma. Ma non lo ha centrato rispetto all'edificio. Quindi io che inizialmente volevo mettere l'ingresso qui. Me lo sono ritrovato due blocchi più a destra. Prima di continuare la costruzione del municipio. Però voglio andare a vedere un attimino su... Nel museo se Simo è andato avanti. Sì, ok. Direi che Simo è andato decisamente avanti. Mi sa che ha messo tutte quante le clay. Tutto quanto alla concrete. Tutte queste cose importanti. Ora cosa manca? Perché, cioè... Oh, se ci guardiamo attorno non mancano tantissimi blocchi in realtà. Quindi... Fatemi vedere. Ma sapete che in realtà ci sono tutte robe perfettamente craftabili. La stragrande maggioranza. Le uniche cose che davvero sono inottenibili attualmente sono... I blocchi del land. E il micelio. E le foglie di giungla. Per il resto abbiamo tutto. Qui. Ci sono già le scale rovesciate qua dentro. In basso fa schifo. Orca puttana! Fottiti! Mi son cacato! Anche io sarei molto triste, Stefano. Anche io. Perché chiamarlo per nome? Come se ci avessi confidenza, no? Ma... Scusi, ma lei ha la licenza di giardinaggio? Ma certo. Me la faccia vedere. Non si preoccupi. La lord di Pandora! Chi è che fa il pagliaccio qua sotto? Sto cercando di lavorare! Stavo cantando un po'. Vado a cantare altrove! Via di qua! O chiamo la polizia! Le veline! Nulla. Diare un coglione! Signor Gianco! Si faccia avanti! Lei è sospeso! L'emergenza! Il presidente puzza! È vero, non mi faccio la doccia da tre giorni, frate! Sei comunque licenziato! Posso dire una frase che ho sempre voluto dire nella mia vita? Che bello! Aspetta, aspetta, aspetta! Signor Gianco, entri! Immediatamente. Che succede? Cosa mi significava quel volo sopra la mia casa? Urlando parole ingiuriose. Prego? No, è un'emergenza. Un'emergenza, sì. Questa è un'emergenza, non quella. Lei ha appena commesso un reato di l'esa maestà, lo sa lei, vero? No, 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 l'esa maestà no. Signor Gianco, pistola e distintivo. No, no, no. Signor Gianco, pistola e distintivo. Lei è sospeso senza paga per una settimana. No, ma mi pare esagerato! Signor Gianco, sospeso per una settimana. Non accetto la mentele. Non l'ha visto nessuno. Consegni pistola e distintivo. Non... sta cercando di corrompermi? Sono due settimane di sospensione senza paga. Consegni immediatamente pistola e distintivo. No, no, non è la pistola, non è il distintivo. E allora si tolga l'uniforme. Adesso voglio guardare. No, 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 è ingiusto, dai. Non è giusto, non è giusto. Signor Gianco. Dai, dopo, per favore, parliamone dopo. No, 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 invece ne parliamo adesso. O semplicemente non è in live. No, non sono in live. Allora, allora che si fotta. Vada via e torni dopo. Sto mangiando io. Scusa, Gianco, non sapevo. Rifacciamo dopo tutta la scena. No, 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 tranquillo. Dopo ti licenzio comunque. Per ora vai. Ti lascio andare. Ti prego, dopo non mi licenziare. Tre settimane di sospensione. No, era una pacca sulla spalla. Salve. Salve, buonasera. Scusi, che arrivo importante. Salve, non mi aspettavo che arrivasse a cavallo. Prego, prego, entri pure. L'ho ricostruito, però non so arredare gli interni, quindi mi dovrò appoggiare a qualcun altro. Di chi sono le voci? Sono i due poliziotti, credo. Ah, a tal proposito, signorina Vic, salve. Come si sono comportati i poliziotti lunedì? Ma che cazzo è sto casino. Adesso le dico tutto. Il libro è scritto. Ah, ma si è segnata tutto proprio. Perché tra venerdì e lunedì io le ho affidato la città in mano, praticamente. Praticamente, signor Gianco e signora Franzo si sono comprate una macchinina rosa. Che carini. E quando si sono seduti dentro ho detto, ma che carini, siete proprio dei pagliacci là dentro. Sì. Si sono abbastanza offese e Gianco ha voluto arrestarmi. Che vabbè, diciamo che potrebbe essere considerato oltraggio a pubblico ufficiale, quindi se vogliamo ricade. E poi volevo sapere per quanto riguarda i soldi delle multe, a chi vanno? I soldi delle multe? Allora, il punto è che non c'è un registro, tecnicamente vanno parte a loro in quanto pagamento per aver lavorato per lo Stato. E il resto allo Stato. Ma io non ho visto neanche un soldo. Aspetti, c'è un po' di casino. Era da tanto che non la rivedevo. State zitti, fate casino! Oh, c'è della lore qua dentro. Ah no, ma no, sono venuti a salutare il colonnello, ti è scappato. Prego. Ti vado le shaders. Sì, ce li ho, ce li ho le shaders, i figuri. Allora, a posto. Comunque, Vic, devo ringraziarla, ha fatto davvero un ottimo lavoro. Tra l'altro, ha visto il messaggio che l'ho lasciato per lunedì? Sì, che era quello dove dovevo annunciare il fatto dell'ende, del fatto che lei ha bisogno di materiali. E in più aveva scritto Vic... Aspetta, com'è che mi ha detto? Sovrintendente. Esatto. Sì, sì, sovrintendente. Cioè, lei mi ha nominata sovrintendente. Sì, l'ho fatto in sua assenza, però lei è ufficialmente sovrintendente per ora. Quindi, se arriva qualche lamentella da parte dei cittadini per la polizia, lei se ne dovrà occupare per ora. Cioè, lei mi sta dicendo che sono sovrintendente della polizia? Sì. Ha capito, signor Gianco? C'è qualcuno? Sì, signor Nova, salve. Dov'è? Non la vedo. Posso raggiungerla, è una cosa molto importante. Prego, venga, se facciamo veloci sì che poi devo fare un annuncio ai cittadini. Si ricorda? Trattato comunque di... Certo, me lo ricordo. È stato infranto. Certo, comunque, diciamo che è successo più dell'infrazione. Il mio coccolino, il mio coccolino, il mio coccolino. Agente, agente, mi hanno inculato il cavallo. Vabbè, non è che è sempre il cavallo che può inculare le persone. Ogni tanto l'ha inculato pure lui. Ben che giusto. Mi hanno sequestrato senza permesso, così di forza, dicendo, mi hai detto che devi pagare molto e l'avevo già pagato. Ok. Confesso che ho preso in prestito la macchina polizia per scappare nel mio territorio, però l'ho lasciato l'oro. Ok, il che è un po' illegale, però... Confesso questa cosa, ma l'ho lasciata lì al casello, quindi non l'ho rubata. Ah, ok, l'ha presa in prestito, ok. Il punto è successo dopo. Torno a casa e ho detto, vado a farmi la casetta. Facendo ancora una casetta dal primo giorno, mi faccio una casettina. E il problema è questo. Che arrivo nell'elicottero, come puoi vedere, e mi ha bombardato inizialmente la casa. Quindi metà casa è andata. Ah, quindi questo squarcio è il bombardamento. Quindi metà oggetti sono spariti, gli altri li ho recuperati, però non so come è sparito e cosa è rimasto. Ok, signor Nova, io provvederò subito con la sospensione nel caso del licenziamento del signor Gianco. Signori, non so chi di voi fosse presente lunedì sera, giorno in cui il vicepresidente Gold e la sovrintendente Vick hanno dato un annuncio, ma nel caso lo rifaccio. Venerdì sera andremo nell'end. Direi che è giunto il momento di visitare l'end di Pandora dopo tanto tempo, quindi non sono pazzo. Sono semplicemente impaziente e non sto più nella pelle. Mi raccomando, se qualcuno ha voglia di andare a cercare delle enderpearl, dei blaze, fatelo stasera o fatelo domani. Signor Max, non si tocchigni. Procuratevi tutto il necessario, perché venerdì partiamo e forse manco torneremo. Tutti liberi tranne Gianco, Franzo, Vick, nel mio ufficio. Abuso di potere, l'esa maestà, ha pure in fronte un contratto internazionale, un patto stipulato con l'emporio, attaccandolo con un elicottero. Quando l'ha fatto? Ma quando è successo? Signor Gianco, ora è ufficiale. Pistola è distintivo. Lei non solo è sospeso senza paga, lei è licenziato. Ma no, nella persona è licenziato. Lei è licenziato, allora si tolga l'uniforme qui davanti a tutti. No, no, le armi, allora, mi danno i diamanti che le ho pagate. Signor Gianco, non funziona così. Dovrò farla arrestare. Oddio. E da chi? Dal signor Franzo e dalla signorina Vick, che ora la sostituirà in polizia. La signorina Vick è il nuovo colonnello, nonché sovrintendente. Cosa ha detto? Mi scusi? Ma io ho la vita che mi rompo il culo per questo lavoro. È un momento molto critico questo, quindi non posso lasciarle in mano tutto. Signorina Vick, mi raccomando, si comporti bene. Assolutamente sì. Mi raccomando, rispetto il suo collega, perché prima non è che andassero molto bene le cose. Il signor Franzo vedrà che andrà tutto bene con Vick al suo fianco. Salve. Che fine ha fatto il suo ufficio e le sue mura? No, è open space oggi. Ah. Hai visto l'insegnere che ho fatto a Muso? A Muso? A Muso no, ho visto quella di Dado. Guardi, guardi quella di Muso, di cosa ne pensi? Mi dica, mi dica. Tanto devo raggiungere il signor Muso, quindi ci casca a fagiolo. Perfetto, perfetto. Aia. Fa' ste Muso, sai. No, è cursatissimo Muso, unito a ventisene, è una cosa tremenda. Salve, io e lei dobbiamo parlare. Mi dica. Perché lei ha combinato cose che non doveva fare. Io le avevo dato un permesso speciale soltanto per venerdì. Lei ha venduto auto anche lunedì. No. Sì. Io le avevo detto che le avrei fatto pagare 15, 20, 25 diamanti per la licenza, ma lei sta vendendo i mezzi a prezzi fuori di testa. Quindi, visto che lei ha infranto anche l'accordo verbale che avevamo fatto davanti all'oramai ex colonnello Gianco. Eh beh, ho solo infranto quello, mi scusi, signor Presidente Supremo. E quindi io sono ancora d'accordo con i 25 diamanti. Voglio che allo Stato entri almeno il 75% di quello che lei guadagna da questo negozio. 75%? 75%? Lei una macchina quando la fa pagare 9 blocchi di diamante? No, no, ma che 9 blocchi? Lei ha delle fatture? Assolutamente sì. Non posso vederle? Giustamente ho solo quelle lì di... del primo giorno in cui le ho vendute a 64. Solo una. Ha ragione. Quindi lei sta evadendo? No, 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 assolutamente. Io no, perché io già tenevo una grandissima parte per lo Stato. Una fetta del 50% tenevo una parte, che sono un sacco di diamanti. Ti potrei pagare tutto subito. Guardi, 60% abbiamo chiuso. Più i 25 diamanti? Più i 25 diamanti iniziali, sì. Possiamo fare 20 più 60%? Ok, ci sto, ci sto. Madonna, che giornata piena di meeting stressanti, figa. Ecco perché non voglio fare il presidente nella vita vera. Oggi è venerdì 8 luglio, giorno in cui avevamo annunciato che saremmo andati nel Land. Tuttavia abbiamo avuto dei piccoli problemi logistici, proprio problemi a livello tecnico, che ci impediranno di andare nel Land questa sera, ma semplicemente sappiate che l'evento è rimandato a lunedì. Nulla di grave, anzi da un lato io preferisco anche così, perché in questo modo possiamo prepararci per bene. Cioè, io sono ancora a metà in ferro. Cioè, vorrei fare qualcosa di decente, il punto è che mi servono livelli. Quindi, domanda importante. Don Berro avrà finito la mia farm? Andiamo a vedere, no, perché ora ne ho anche davvero bisogno. Tondo! Cos'è questo posto? È il sole. E Dado però, se c'è, lei è un pirla. Salve, signor Dado, come sta? Vorrei dire bene, ma mica tanto. Mi puoi animare, gentilmente. No, no, sono scivolato via. Chiedo scusa. È suo l'ufficio qua a sinistra? Eh sì, è l'ufficio delle poste. Ah, ok. Allora, se mi da un attimo vado a prepararle tutti i documenti necessari. Buonasera. Salve. Salve. Come sta? Che fastidio. Bene. Mi fa piacere. Volete vedere l'aggiornamento che hanno fatto a Pandora? Che aggiornamento hanno fatto? Ok. Mi sono appena sparite le patate. Ok. Ma come cazzo hai fatto a sputare? Fai sputare. Ma è lo spit dell'arma. Come fai sputare? È un emoticon. No, no, shift F. Ma no. Possiamo sputare sui cadaveri delle persone che incrociamo. Ma che cosa molesta? Raga, io stasera non ho nessun lavoro a quanto pare da grafico detective. Anche io perché... Cioè, io non ho niente in mente perché avevo dato per scontato l'eventino. Quindi devo un attimo reinventare il programma. Io in realtà volevo un attimo armarmi meglio. Perché cioè, attualmente ho soltanto la pettolina e i piedi di diamante. Ho ancora una spada in ferro. Quindi avremmo bisogno della nostra farm. Andiamo a picchiare Don Berro? Eh, se mi dati un attimo che preparo la licenza da postino per dado, mi assento un secondo e poi torno e... Oh, madonna. Da postino. Sì, lasciate perdere. Che palle, io non dovevo fare il presidente. Devo farmi i cazzi miei anche in sta season. Io cerco ancora lavoro. Vuoi qualcuno che ti chiuda le lettere o le missive? No, in realtà avrei bisogno di qualcuno in grado di decorare l'interno del municipio perché io faccio cagare il cazzo a decorare. Posso pagarti bene, quei soldi ci rientrano a noi. Poi sono i soldi dello Stato che possiamo riciclare e tenere noi dopo. Riciclaggio! Sì! Che bello! Sputare! È vero, potrei fare l'interior designer. Anche è un'opzione. Esatto. Mi date un secondo che vado da dado, vado da vic, consegno le cose e poi se volete ci riuniamo e andiamo a menare Berro? Sì! Ok, arrivo. E dove è la sua licenza da postino? Eccola qua, lei ha i suoi dici diamanti? Sì! Me li consegni immediata subito, grazie mille! Perfetto. Lei è libero di andare a postineggiare quanto vuole adesso. Aveva per caso deciso quale sarebbe potuta essere la tariffa a cui vendeva i suoi servizi? Sì, sì, vada qui. Avevo pensato sui, non lo so, signor Goldor, se siete pure, grazie, sui venti. Sui venti diamanti a persona, a cliente? A oggetto. A oggetto, ok. Quindi facciamo circa una ventina di diamanti per la licenza. E siamo a posto. Ok, va bene. Signor Presidente. Tom Berro. Volevo solamente dirle che io sono pronto per andare nel land come da lei precedentemente annunciato. E io le devo dire una cosa, che finché lei non ha quella maledetta farm pronta, io nel land non ce la porto. Ma la devo anche fisicamente costruire? O bastava che io la facessi? Oddio santo, cosa succede? Devi starmi lontano, due è il Covid, dovete starmi in ombra. Gliela devo anche costruire, quindi con l'acqua e tutto il resto. Guardi, se mi dà semplicemente le coordinate ci penso io tanto il lavoro di un quarto d'ora. Il pallato su tre ha problemi nella prostata dei trent'anni in su. Vero. È vero. Porca troia. Mi faccia un controllino, signor Gianco. Aspetti. Lo faccio con questo, se vuole. Cos'è quella roba lì? Quella lì è una mazza. Lo faccio con questo. Vada, vada. Controlli. Aia. Com'è, dottore? Tutto a posto? Che bello, è tutto a posto, sono sollevato. Complimenti, signor Presidente. Già mi hanno dovuto tagliare il cazzo. Non avrei sopportato anche dei problemi nella prostata. Signor Presidente. Non so, ha fatto l'accordo con Vincenzo. Signor Presidente. Dica. Tenevo che darle questo da parte del Don Berro. Ah, grazie, José. In teoria adesso andrò a trovare adesso queste stesse coordinate perché non vorrei che nel frattempo, in tutte queste semane, hanno distruito tutto. Perché nel caso ne devo dare altre coordinate. Mucho bien. Sono su Pandora da neanche un'ora, ho già mal di testa. Tiara, io ti chiederò la prossima volta la licenza per cambiare attività. Ok, va bene, ci sta, ci sta. Joder, quanto è profondo, signor Berrofronzo. Forse era meglio se non passavo di là. Eh, eh, eh. Scusate. Eh, ciù! No, no, è finita. La mascherina, signor José. La mascherina. Non l'ho ancora importata dentro del Pandora, signor. Dovremmo, dovremmo chiedere al mago se può procurarci delle mascherine. Prendiamo un torneo di sputi. Un torneo di sputi è più lontano? Sì. Guarda che io passo il pomeriggio a studiarmi l'angolo giusto. Teoricamente, credo che studiò Leonardo da Vinci e l'angolo giusto è 45 grado. 45? Perché porre il culo te l'hai in con... Ovviamente. Quindi... Volendo io avrei anche la farm di Skelete da andare a fare, però non so quanto ti interessi sinceramente. Ah, è vero, è vero. Ma ci dovremmo spostare in Chantin Table i libri. Sì, vabbè, andiamo su, prendiamo tutto, prendiamo dell'ossidiana e ci facciamo il portale direttamente lì vicino. Speriamo bene. Vai, Sivo. Siamo sotto terra, però novant... No, non siamo sotto terra. Dove cazzo siamo? Siamo in una caverna alta. In realtà è anche comodo, se vogliamo. Oh, cazzo. Ma... È qua dietro! Easy. È qui lo spune. Lo sky sensor ci serve, comunque, eh. Per... Sì, ne abbiamo già tipo uno stack a casa. Ah, eh. Lascialo questo, vediamo se muore. O se si ferma. Vaffanculo, è morto. Vabbè, però, se li miniamo prima... Sì. Con una botta dovrebbe bastare. Ok. Solo che così non possiamo stare qua fermi a accumularle, come dire. Quello no. Comunque, tolta la lava, ne spawnano molti di più. Eh, magari è quella, è proprio la luce, sai? Sì. Dobbiamo... Sì, proviamo con la dripstone, se vogliamo un attimo. Eh, non c'è. Sì che c'è. Sì, non ci sono le punte. Ma come no? Perché è un bioma custom, questo. Oh mio Dio. E quindi non spawnano naturalmente le punte. Non si possono craftare, no? No. Dovremmo andare a casa a prenderle. Ah, yes. C'è giusto il vicepresidente online. E grazie. Ah, ma così! C'è neanche il tempo di entrare... E abbiamo già un gigaspoiler. Ciao ragazzi! Ieri mi sono messo un attimino a cazzeggiare. Ho cercato di tirare su quella che potrebbe essere una mini-entrata del museo. Ma mi fa cagare il cazzo. Il tetto mi fa proprio schifo a vedersi. Quindi ho bisogno di Simo. Nella scorsa live ci eravamo salutati che vi avevo detto che mi sarei un attimino enchantato per bene e tutto quanto. Beh, l'ho fatto. Ora sono fully enchanted. Allora, il mio elmetto è... Affinity, Protection 4, Respiration 2, Unbreaking 3. Protection 4, Thorns 2, Unbreaking 3. Questa è la mia classica pettolina che ho dall'inizio della serie. Pantaloni, Fire Protection 4, Unbreaking. Piedini con Protection 4, Unbreaking 3. La spada, Sharpness 4, Sweeping Edge 3 e Unbreaking 3. E infine, signori, la creme della creme. Proprio il fiore all'occhiello. Il mio revolver. Flame, Infinity, Power 5, Unbreaking. Vi voglio far vedere... No, non vi devo più far vedere un cazzo. Perché in realtà non ho fatto nient'altro. X-Ray, certo. Non quattro ore passate a scavare su Pandora. Perché hanno creato un enorme vulcano sulle ceneri della casa di Franzo? Qualcuno me la può spiegare questa cosa a livello di lore? Perché abbiamo due vulcani, uno sopra l'Emporio Pizzeria e uno sopra la casa di Dado? Non... Non lo so. Simo! No, mi sentito. Eh, ho sentito mentre finivi di smutarti che ho sentito quel... Ah, merda, volevo farti uno scherzone epico. E invece mi dispi. Ma che bello ingresso che c'è qua fuori, eh. Guarda che non so se mi piaccia il tetto. Ma forse il tetto... Il tetto pensavo non fosse finito. Eh, non... Cioè, non so come farlo. Infatti te lo lascio lì e chiedo a Simo una mano perché io non ce la posso fare. Allora potrei pensarci io. E i blocchi qui come andiamo? I blocchi, guarda, alla fine ho visto che mancavano giusto quelli di giungla. E... Eh, la cobweb. Dopodiché mancavano anche il beacon e la neve, quella polverosa. Che però vanno in fondo. Quindi chi se ne frega. Esatto, esatto. Eh, più tutti i blocchi della 1.19 di cui uno già lo abbiamo. Che è lo skulk sensor. Che è lo skulk sensor, esatto. Poi gli altri invece li recupereremo post-update. Presidente. Dica. Allora. L'hanno scammata? No, 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 no. Incredibile. Anzi, c'è a mia nuova armatura. Vedi, il capprino non posso toglierlo perché c'è la maledizione. Ah, ok. Quanto ha di durabilità? 43. Togliti l'armatura. Quanto uso il... Ah, eccolo. Ora puoi usare tutto, eh, mi sei contento. Oh, finalmente sono circunnavigato. L'ho colpito io? Acqua! Acqua! No! No! Ma... Ah, perché... Perché... Chi è il bastardo? C'era una torcia, l'hai tolta, vero? Sì, l'ho tolta, c'era l'inventario. Sperando che nessuno l'abbia piazzato di nuovo. Emerald! Scusi, che magari era un po' divertente se è capita, ma di nuovo. Fulmine! Ma non esce, ho già tirato otto colpi, non è uscito un fulmine. Provi su di me. Provi su di me, signor Gianco. Fulmine! Ammenato il presidente, arrestatelo. Babà! Ci siamo tutti, siamo tutti qua? Yes. Perfetto. E allora direi che possiamo cominciare il nostro viaggio, la nostra avventura. Io ne ho cinque. Beh, ti diamo la prima per capire la direzione ortogonale della quale dobbiamo andare. Eh, volevo fare il lancio inaugurale. Lancia! Lancia! Non mi spari però, signor Pasquale. Sì, ne abbiamo abbastanza, ne abbiamo abbastanza. Tre, due, uno... Insomma. Oddio! È la scampiglia! La scampiglia! In realtà è verso la montagna dei fiki, però... No, ecco, è vicino a Pasquale. Aspetta, ne tiro una qui. Questa c'è anche qua dove sono io, sì. È qui sotto. È qui. Tutti vicini a me. Quella, madame. What the fuck? No, signor Gianco. Poi ci facciamo malissimo. Che signor Gianco ha un'idea di merda. Non si preoccupi, non è un'idea di merda. Io sono dottor Gian Cristin. Dottor Gian Cristin, mi sa che ha un'idea di merda! Dottor Gian Cristin! Io ero nel lato sfortunato. Perfetto, continuo a procedere. Quanto ricordo, gita a Fiumicino con i miei amici. È Ciampino, coglione. È la quarta volta che ce lo dico. È Fiumicino, questo è Fiumicino. Dove lo vedi il fiume? L'ho visto... Dove lo vedi il fiume? Vicepresidente, do a lei l'onore. Quella armatura. Sacrificio, sacrificio. Vada, vada. Signori, poi una volta che ha aperto il portale, con calma. Andiamo uno alla volta. Sì, ci lanciamo bene. C'è già lanciato dentro. Eeeh, cos'è? Ma pensavo fosse il rumore del drago ruttatore. Ah, Franzo, scusi, pensavamo fosseri con noi. Ma è una roba di AX, non è Fiumicino. Ma la quella spada è fighissima. Ma che fantassimo! Ehi, ahi, ahi, ahi. Ehi, ahi, ahi. Ehi, ahi, ahi, ahi. Ehi, ahi. Che gang. Mi sono scangato la bandalogna. Basta, ma se non ci dette gang, non ce la faccio più. Presidente, è fortissimo Non è vero, faccio cacare il cazzo, signor Polgo Però contatti la regia che sti cazzo di boss d'autaku Non mi piacciono più, li mettono roba normale Perfetto Non si ummi È illegale in questa dimensione Ma come? A Fiumicino non si può siummare Non è Fiumicino, è Ciampino Qualcuno mi aiuti, Vincenzo Scusi, scusi, scusi Sta colpendo tutti Tiro il piattello Preso No, no, ma Non è morto Allora, ci deve essere un modo per fermarlo però Sta perdendo troppa o poca vita È troppo veloce Non mi chiede il fallimento Andate di arco Ma che di arco, vicinate tutti quanti qui Tecnica di Junkinstein Vada Junkoo Portate il riporto, se sono lì Sembra un po' too much Ragazzi tutti Orca puttana Sono vivo, sono vivo Ma che cazzo di divoraggine crea qua Aspetta Blocchi Mi servono questi Vai Junkoo Vai Junkoo Vai Junkoo Attiva, attiva, attiva Attiva Acceso, acceso, acceso Sì, guarda che in effetti È ben soltanto un bel D.O.M Mi avete taserato Vick Sei licenziata Morda il mio villaggio di Clash Royale Sono morto Non ora Non ora che sta morendo Tiratevi su Qui Tiratevi su Non voglio perdermi la scena mentre muro Ok è morto È morto Fermi tutti Signori Fermi Fermi Cosa li lasciava Chi è che ha raccolto il drop Io Ma lo brucerò subito No Signor Gianco Si fermi Non per dire Ma si è aperto il portale Si è aperto il portale Dove Mi sa di sì Siamo tutti Franzo Ci sei su giro Prima 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 io Geronimo Orca puttana Siamo finiti nella mia cam jar Scusate Questa è struttura Ho indirizzato all'universo più vicino Ha interagito troppo con la linea temporale Ho provato a menare il junk e l'ho detto anche a me Ragazzi Solo per con la linea temporale L'unica vera forma giusta di questo mondo Opera fidanziata dal sudore dei nostri compagni Con patate e pelata Pandora ci aggrata Leo Leo Ma 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 scusi questo Ho appena visto Il nostro sole non ha capito Raga È la nostra Pandora La nostra Pandora La nostra Pandora È proprio lei Il titolo mi assomiglia scusa No scusi Cioè volevo dire Ma Sa Forse Forse era una questione Puramente allegorica e metaforica Perché sa Le rane sono viscide Quindi il viscito re La viscida Borghesia che viene Afferrata e stritolata e distrutta dal pugno del comunismo Che maraviglia Capisce È un'opera subcontemporanea Vietato essere capitalisti a messe solo patate Giusto? Giusto? Fammi vedere casa tua Allora preparati perché sarà un bel colpo al cuore Guardando la statua lì Credo che in questa dimensione casa mia fosse in realtà quella laggiù Tecnicamente Ah il palazzo rosso Il palazzo rosso Però tecnicamente casa mia Eccola Somebody once told me No Non ti scavano Rome Ah No Al cimitero ci sono Mi sa Gli ex morti Mi sa che adesso voglio andare a vedere Ah quindi Questa è Ma è fatta di terra Si Era È l'unità dica Salve Scusi non è la sua palude È la nostra palude Andiamo al cimitero Si Si ma poi torniamo qua Leonardo Bru Incidente con un pony arrapato Oh no Sono proprio effettivamente le tombe di tutti i precedenti partecipanti Bertra o verdosi di steroidi Ah è vero Franzo TV Ma come? Ma Quindi questo non è il vero Franzo Tearless Raptor E fusioni con anfibi dubbiosi Gli spiriti ci attaccano No Regà No no Cosa brutta Ma aspettate Ma se sono morti tutti? Compagno glabro terzo Ah quindi Cioè Partita da una dinastia Qualcuno deve aver ucciso E Soverchiato Non soverchiato Come si dice? Spodestato Spodestato No va esattamente Spodestato Du capelli Du capelli Due Oh no No Dove sono tipo I familiari Di 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 quello che era il mio antenato A questo punto Perché mi assomiglia un po' troppo Ma è del tuo alter ego Di questo universo Sì anche Ho antenato Di questo universo Eh sì Frate Quello Purtroppo non ci posso fare niente Allora Per chi non ha visto Pandora 2 Questo qua era la mia cucina Questo qua era il mio soggiorno Questa qua era la mia camera da letto Mentre si giriamo qua dietro C'è il bagno Che non ho mai finito Cazzo Ops Di qua abbiamo la pentagione di patate Che avevo in casa Sì perché avevo la pentagione di patate in casa Sì Allora No 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 Non ci siamo raga Mi sono caccato sotto Raga Che succede? Raga che succede? No raga raga Il warden? Aiuto È solo il warden Oh no Ma c'è Hanno festato nova La evil frog È una grossata di strato L'ho vista L'ha tenuta L'ha tenuta L'ha tenuta L'ha tenuta What? What?